Chiusura col botto ieri nei campionati dilettanti siciliani. In serie di infatti la Ragusa rifila quattro reti al Cosenza che ha così perso il primato che deteneva col Messina. Gli azzurri sono così saliti a quota 25 in classifica dando un calcione alla leggera crisi di risultati allontanandosi in maniera netta dalla zona calda. In eccellenza non è da meno il vittorio cui basta il primo tempo per regolare la pratica a Rosolini. Doppietta del neacquisto ramette il gol di Crisafulli per confezionare un rotondo 3 a 0 sotto l'albero di Natale. Tre punti che valgono nel sesto posto visto che Targa e Mazzarà hanno cominciato a sfilarsi. Goleade ieri anche sui campi del Villafranca 5 a 0 al Fanalino Atletico Gela del Due Torri 4 a 1 al San Gregorio e della Tiger 3 a 0 al Tormina avversario del vittorio alla ripresa del campionato il 6 gennaio. Sempre male invece il Comiso battuto ad avola da un gol in avvio e Verdarancio praticamente spuntati in avanti e incapaci di ristabilire almeno le distanze. Adesso insieme all'undici Borgese penultime in classifica è rimasto il Rosolini in quanto il Villafranca si è staccato. Da segnalare infine all'ennesimo pareggio del Modica 1 a 1 il settiman 16 gare col Mazzarà che però in fatto di pareggita non scherza 8 pareggi infatti con quello di ieri contro il Rosso Blu.